Per la crema 250 ml di latte 2 tuoridi 2 cucchiai e mezzo di zucchero 2 cucchiai di farina 00 100 ml di panna Per la base 3 uova 150 g di zucchero 100 g di farina 00 100 g di pulo 100 g di cioccolato pan verde Per la decorazione 80 g di cioccolato bianco E zuccherini quanto basta 70 g di cioccolato pan 100 g di cioccolato pan Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.